Social Podcasting. Your Digital Friends. Le poesie di Alma. Buongiorno a tutte e a tutti e ben ritrovati amici e amiche di Social Podcasting. Io sono Alessandra Corbetta e oggi per Alma Poesia vi leggo un inedito di Alessia Bettin. Non avere paura di fallire pubblicamente, sfoggiarti architettura inconclusa bordo strada, hotel non finito, villetta abbandonata, i serramenti nuovi, imbiancata, di sentirti ovunque estranea come l'acqua che vapora, di dire sto perdendo tutto, mi sgretolo, esplodo, resta un buco con tre alberi attorno. Social Podcasting. Your Digital Friends.